Un mezzo che trasporta ossigeno e medicinali è rimasto praticamente bloccato in mezzo all'acqua che c'è qui nella zona della Foce. Cosa è successo? Niente, è rimasto bloccato, aveva l'acqua che arrivava alle portiere, si è bloccato il mezzo. Io, conoscendo l'autista che guida, che è un ex militare della Croce Azzurra, Germano, l'ho tirato fuori con il suo auxilio e ci siamo messi in sicurezza, abbiamo cercato di liberare per il traffico, che c'erano delle corriere, 5 corriere, che erano bloccate anche loro. Avete richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco? Sì, sì, perché non riuscivamo a rimuovere mezzo e l'acqua era dentro le portiere, in modo che non potesse entrare dentro, abbiamo chiesto all'ausilio dei pompieri. Acqua che è scesa quasi improvvisamente, che sta scendendo copiosamente da via Padre Semeria, dalla zona dell'autostrada? Esatto, siamo qua in Corso Marconi e come vedete c'è tutto un fiume sulla strada. Grazie.